Perché tutti pensano che ok, si vuole la tecnica, la legge della mic suona davvero con l'anima, lo si vuole dal palco, è una figata pazzesca suonare con un mic. Grande mic! Are you swimming in your sweat? Yeah, me too. I'm drowning in my sweat. Ok. Me la toglierò, eh? Questi sono cazzi di racidi. Ehi, è più lento. One second more. Let's check the bass. No, non sta fermo mai perché è ancora l'entusiasmo di un ragazzino. Ma questa è una figata. Facciamo notare che Mike, ovviamente come tutti i batteristi moderni suona con i trigger e quindi... Mike, Mike, suona la tua canzone. Play your own song. Oh, I can't play that. Yeah, yeah. You should play the song. I don't want the American one. I want the Spanish one. I want the Spanish one. I want the Spanish one. I'm ready to dance. Ok? Ok? Vai! 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 Perché c'è troppo umidità. Fa molto caldo. Fa molto caldo l'umidità. Le cose della chitarra sono le prime ad aver seduto, eh? Grande simpatia. Ole! Message to home. Silenzio religioso e il vento della serata. Salute silenzio. Alla 기 chama mi freddo della serata. Grazie profonda. Grazie. 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 Grazie.